Musica Si sono svolte oggi in città le celebrazioni per la festa della Repubblica. Al mausoleo Schilizzi il sindaco Gaetano Manfredi ha deposto una corona in ricordo dei caduti. In seguito, insieme alle autorità, alle forze armate e alle associazioni dei combattenti, il primo cittadino ha partecipato alla cerimonia dell'Alza Bandiera in piazza Plebiscito. Oggi è un giorno importante, il 2 giugno in un momento come questo, con tutte queste tensioni internazionali, la guerra in Ucraina, ma è come in questo momento un'unità nazionale importante, il rapporto con le nostre forze armate, il senso dell'istituzione dello Stato, quindi la presenza a tutti i livelli a Napoli, come in Roma, come in tutte le altre città d'Italia, delle istituzioni per ricordare la nostra Repubblica è fondamentale per riaffermare la centralità della democrazia e delle nostre istituzioni democratiche.